Sono nata da un sogno. Ho costruito i miei valori. Li ho allenati. Li ho coltivati. Ho lavorato ogni giorno duramente e ho imparato dalle sconfitte e dagli errori. Ho raggiunto i miei traguardi ed ottenuto le mie vittorie. Ho solo tre anni. Mi chiamo Open Fiber. Open Fiber è nata probabilmente come una scommessa. Open Fiber è nata da una grande intuizione. C'era solo un'ottima idea e poche persone che la volevano portare avanti. Come molte belle storie, ha cominciato a prendere forma in uno dei luoghi più improbabili. Sembrava di stare in una sorta di casa con gente giovanissima. Eravamo un gruppo di persone molto affietate, una grande famiglia. Un'energia talmente forte che uno praticamente non si accorgeva delle ore che passavano, del tempo che cambiava. C'era un grandissimo fermento. Involiava molto l'idea di sfida, di mettersi in gioco. Era una fucina di idee, era un pazzo il tutto da comporre. L'hai pensata, l'hai studiata, ci hai lottato. Te la senti un po' come una tua creatura. Averla vista vuota, potevamo essere neanche 100 persone dentro, vederla oggi è un forte motivo di orgoglio. Noi siamo per Open Fiber un valore, il motore trainante dell'azienda. Siamo una squadra, quindi dove non arriva uno, dove non riesce uno, ci si aiuta per raggiungere l'obiettivo. Ogni dipendente ha un valore aggiunto. Open Fiber sicuramente è diverso dalle altre aziende. È un progetto unico nel suo genere. Open Fiber è una sfida. Ha l'idea rivoluzionaria di cablare l'intero paese. Dà possibilità alle persone di contribuire con le proprie idee. Ognuno di noi si sente importante. Si percepisce ancora oggi determinazione, carattere ed entusiasmo. È proprio questo, il percepire quotidianamente questa continua evoluzione, cambiamento, miglioramento, perfezionamento. Chiunque sta qua dentro, chiunque si sente partecipe dell'intero progetto. Qui hai la sensazione di star costruendo qualcosa insieme agli altri colleghi. Io penso che l'importanza di Open Fiber siano le persone che compongono Open Fiber. L'individuo da solo fa tanto, in gruppo fa l'impossibile. Continuiamo a contribuire tutti i giorni con il nostro lavoro a rendere Open Fiber un'azienda grande.